Conosciamo Moto Infinito per i suoi capi multistrata. Oggi invece vogliamo presentarvi un prodotto che è diverso. Ce lo spiega Giorgio Dallarosa. Di che cosa si tratta? Si tratta di una tuta per cui non abbiamo un concetto multistrato ma uno strato unico. Con questa soluzione abbiamo pensato di dare anche ai non clienti Moto Infinito la possibilità rivestire a strati. Che cosa si differenzia dalle tante tute antipiogge che ci sono sul mercato? Appunto si differenzia per il fatto che può essere portata sempre, essendo impermeabile e traspirante, fa proprio la funzione di una giacca esterna. Giacca e pantalone, molto pratica da indossare perché è completamente apribile, si indossa in un attimo e allarga l'impiego di un appigliamento tradizionale di qualsiasi genere. In tanti si chiedono come si possa mantenere un capo di questo tipo. Che vita ha? La vita del capo dipende dalla qualità della membrana. Poi ci sono altri aspetti che sono fondamentali per un capo antiacqua. Bisogna fare la distinzione tra impermeabilità e idrorepellenza. L'impermeabilità è la capacità di non far passare l'acqua. L'idrorepellenza è la proprietà che fa scivolare l'acqua sulla superficie. Questa seconda proprietà può essere facilmente ripristinata in quasi tutti i tessuti con membrana laminata, stirando a bassa temperatura il capo. La colorazione fluo è quella che si dice di moda in questo momento. Lo è davvero oppure gli italiani ancora hanno qualche difficoltà e non sa? Sicuramente l'italiano è un po' restio a indossare una colorazione fluo. Certamente stiamo notando un aumento della richiesta perché ovviamente sulle strade la visibilità sta diventando sempre più importante. Il prezzo di questa tuta? Questa tuta va al pubblico a 199 euro. Grazie mille.